Disney ha ufficialmente annunciato la data di lancio di Disney Plus in Italia, al servizio di streaming potenzialmente molto interessante in grado di dimostrarsi un attore centrale in un panorama da tenere costantemente d'occhio fra nuove offerte e nuovi sfidanti. La compagnia ha deciso di anticipare leggermente il lancio del servizio nel nostro paese, fissando la data del day one al 24 marzo. In questa data il servizio arriverà anche in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera per poi raggiungere altre nazioni europee nell'estate di quest'anno. A livello di prezzo, Disney propone la possibilità di scegliere fra 6,99 euro al mese o 69,99 all'anno, permettendoci così di accedere a un ampio catalogo di produzioni dei marchi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, fra mostri sacri del passato e grandi nomi del presente, come ad esempio la serie di Star Wars The Mandalorian. Ovviamente sono presenti molte altre produzioni in attesa delle tante novità che verranno lanciate nel corso dei prossimi mesi. Per esempio l'universo Marvel crescerà con serie dedicate a Falcon, Bucky e Scarlett Witch. Fra gli altri dettagli troviamo la possibilità di scaricare i contenuti Disney Plus in maniera illimitata su un massimo di 10 dispositivi, di guardare 4 diversi spettacoli streaming su 4 dispositivi differenti e in contemporanea e di impostare un totale di 7 profili diversi. Siete interessati a questo servizio? Potrebbe essere il rivale più agguerrito di Netflix? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.